Stick Control esercizio numero 1 e 2, eseguito a 100 bpm con una piccola, particolare modifica, ovvero variante, fantasia, chiamatela come volete. Tra l'esercizio 1 e il 2 io tornerò indietro dal 2 all'1, ed avremo nella prima fase, dall'esercizio numero 1 al numero 2, due colpi con la sinistra, quando tornerò indietro dall'esercizio 2 all'1 avremo due colpi con la destra. Ed esce fuori una cosa molto interessante. Pronti? 100 bpm, stick control, pagina 5, esercizio 1 e 2. Per ogni esercizio, l'esercizio 1 lo ripeterò 4 volte, l'esercizio 2 lo ripeterò 4 volte e viceversa. Ok? Pronti? 3, 2, 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 5, 2, via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok? Molto divertente affrontare lo stick control senza porsi dei limiti. Quindi aprite la vostra immaginazione, studiate, 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 ma potete anche inventarvi dei modi originali per cui vi aiutino ad affrontare meglio gli esercizi in maniera anche più divertente. Ciao.